La Camera dei Deputati, l'ordine del giorno, regalo l'audizione informale dei rappresentanti di strada dei parchi SPA sulle tematiche riguardanti i lavori concernenti il traforo del Gran Sasso e gli interventi per la messa in sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso. Ringrazio Mauro Fabris, Vicepresidente, Costantino Ivoi, Amministratore Delegato e Gino Lai, Senior Advisor esercizio e progetti speciali di strada dei parchi SPA per la partecipazione ai nostri lavori e cedo la parola al Dottore Ivoi. Esatto, prego Dottore, più forte, un pochettino più forte là, eccolo. Grazie Presidente, buongiorno a tutti. Allora come appunto anticipavo il Presidente, io sono l'amministratore delegato di strada dei parchi e quindi siamo qui a relazionare sul tema. Doverosa premessa agli atti della Commissione è stata già versata della documentazione relativa al traforo del Gran Sasso nell'anno 2019, che è quella che sostanzialmente in qualche modo argomentava e spiegava le modalità con le quali oggi viene garantito il transito in condizioni ordinarie. Allora venendo a noi invece, allora il sistema idrico e acquifero del Gran Sasso, quindi la messa in sicurezza di questo sistema idrico e acquifero, attraverso un decreto legge del 18 aprile 2019 è stato in qualche modo in termini di responsabilità affidato ad un commissario straordinario, che ne ha fatti spiace l'ingegner Caputi, con l'ego testuale. Quindi dicevamo, un commissario straordinario che ha il compito leggo testuale di sovraintendere alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione degli interventi indifferibili ed urgenti volti a fronteggiare la situazione di grave rischio idrogeologico e conseguire adeguati standard di qualità acque e di sicurezza idraulica del sistema idrico del Gran Sasso. Nell'ambito dell'esercizio delle sue prerogative, diciamo come notazione a margine, non si applica al commissario straordinario relativamente alle captazioni idropotabili delle gallerie stesse dell'articolo 94,3 del decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152. Quello che però mi preme evidenziare il terzo punto, cioè la protezione dei punti di captazione deve essere garantita dall'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza determinati dall'attività del commissario cui compete altresì la messa in sicurezza delle infrastrutture, quali sia le gallerie autostradali che i laboratori di fisica nucleare. La messa in sicurezza delle attività preesistenti, quali gallerie autostradali e laboratori, è quindi garantita dagli interventi determinati dal commissario. Questo per dire e per inquadrare il fatto che sia da un punto di vista tecnico, progettuale e poi realizzativo, la responsabilità assoluta è quella del commissario. Strada dei parchi come concessionaria, vicino alla clientela e consapevole della propria mission anche sociale, si è rivelata disponibile a installare e presidiare la cantierizzazione esterna alle aree di cantiere, gestire quindi l'esercizio autostradale circostante è la fluidità del traffico. Andando quindi avanti, una pubblicazione corposa da parte sua, d'accordo, allora andiamo velocemente. Allora, oggi come dicevamo già, e quindi questo era l'elemento che era stato messo a conoscenza del 2019, l'esercizio della galleria è una corsia fruibile per fornice, con una seconda che viene riservata ai mezzi di soccorso, limite di velocità a 60 km orari, distanziamento di 100 metri tra i veicoli in transito, divieto di sorpasso e divieto di transito per i transiti eccezionali. Rapidamente questo è legato al fatto che nel 2017 c'era stato un caso di inquinamento da Toruene e ad esito di tutte quelle che poi sono state le riflessioni e anche il fascicolo aperto dalla Procura di Teramo, si è addivenuti a questa decisione. Cosa abbiamo proposto quindi? Abbiamo proposto al Commissario l'adozione di un modello di cantilizzazione con un senso unico alternato, come dicevamo prima, per le condizioni preesistenti oltre che per delle condizioni infrastrutturali delle gallerie, l'unica cosa che si poteva fare è il regime di senso unico alternato che peraltro in tempi non sospetti nel 2005-2006 era stato applicato dall'allora Commissario Balducci. Come funziona il senso unico alternato? Non lo sto a raccontare in dettaglio, però sostanzialmente ci sono due semafori, uno all'ingresso e uno all'uscita, è tutto un meccanismo di sicurezza per garantire che non possano rimanere macchine all'interno del tratto e quindi con un ciclo di esercizio di gestione del verde che fondamentalmente può variare. Avevamo pensato all'inizio che potesse essere cinque minuti, poi alla fine ci siamo resi conto che i tempi di accodamento e di ripresa al traffico, grazie anche agli smartphone al giorno d'oggi e compagnia verde, sono stati più lunghi rispetto al previsto e quindi in qualche modo abbiamo ritenuto di aumentare i tempi di verde in maniera tale da ridurre la possibilità che ci potessero essere tempi di attesa superiori ad un'ora. Andando avanti rapidamente, perché questi schemi non aggiungono nulla rispetto a quello che stavo dicendo prima, abbiamo provato ad elencare i supporti operativi messi da una parte all'altra, però ve li risparmio, però un'ingente forza lavoro, mezzi di soccorso meccanico, mezzi di presidio antincendio e quant'altro. Esattamente, le pattuglie da stradare, insomma tutto il nostro cagliere d'oleanza. Una breve a volo d'uccello su quello che è accaduto, come dicevo prima, sostanzialmente ci sono stati nove giorni di esercizio, nove giorni e mezzo di esercizio di questa cantilizzazione a senso unico alternato, quello che abbiamo registrato è che nelle ore di picco, accodamenti superiori a due chilometri, tempi di attesa di circa un'ora. Nelle ore e nelle fasce orarie intermedi, tempi di attesa di 45-50 minuti, con tutti quei cicli che descrivevo prima, con accodamenti che hanno raggiunto il valore di un chilometro e mezzo, ovviamente fasce orarie a minor traffico di notte, il tempo previsto che era quello di 30 minuti. Cos'è accaduto dal punto di vista dell'impatto sul traffico? L'impatto sul traffico ha ovviamente mostrato un generalizzato calo di traffico, negli ordini del meno 10 sui leggeri, meno 20% sui pesanti. Il calo di traffico dei veicoli leggeri è stato più pronunciato ovviamente nel fine settimana e per quanto riguarda invece le alternative di trasporto, alcuni, soprattutto veicoli leggeri, si sono riprotetti sul tracciato che da Teramo andava verso Torano attraverso Pescara, altri hanno provato ad utilizzare la statale 90 delle capannelle che però era funestata da tanti cantieri abbastanza importanti e quindi il disagio si è misurato nei termini che vi illustravo prima. Andando a questo punto a quello che è successo invece nel recentissimo passato, quindi la vicenda dal punto di vista degli eventi è passata attraverso una consegna dei lavori, cioè da parte nostra la consegna del fornice al commissario per l'esecuzione delle indagini geniostiche il 14, che è stato lunedì 14. A partire dal 15 ottobre Italfer, che era il responsabile tecnico dei lavori, ha riscontrato un'alterazione dei valori di torbidità e ha chiesto di sospendere lavorazioni che non sono mai cominciate di fatto, perché il 14 si erano semplicemente accantierati ma non avevano cominciato a fare le perforazioni. Ora, in data 17, quindi il giovedì, sostanzialmente il commissario straordinario rileva, a seguito di un sopralluogo eseguito dall'ente gestore idrico Ruzzoreti e dalla Italfer, come dicevamo supporto tecnico del commissario, in questo sopralluogo avevano individuato una rottura di una canala di collettamento dell'acqua per essere portata al bacino per la distribuzione dell'acqua idropotabile e quindi in una lettera arbitrariamente attribuisce alla società strada dei parchi l'onere manutentivo conseguente a questa rottura e ci chiede di intervenire. La società al giorno stesso ha risposto, ribadendo quanto stabilito dalla convenzione avvenuta all'atto di costruzione dell'autostrada dell'82 tra la loro ANAS e il consorzio acquedotto del Ruzzo, che sostanzialmente disciplina la integrale manleva in favore di ANAS, oggi strada dei parchi, per le opere di manutenzione, sia delle prese di captazione, non solo delle risorse idropotabili. Questo stesso elemento è stato ripreso e chiarito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con una comunicazione protocollare nella quale, in merito ad una delibera regionale che andava in senso opposto, rilevava l'estranità di strada dei parchi, cioè degli interventi richiamati nella delibera regionale a rapporto concessorio con strada dei parchi, in quanto non contemplati dalla convenzione unica attualmente vigente. La delibera è stata ritirata ed è stata riformulata. E poi richiamando anche un documento prodotto dalla stessa società Ruzzo, in cui il commissario governativo, ne era anche a conoscenza, veniva trasmesso dalla società Ruzzo un progetto definitivo relativo agli interventi sulle botole di accesso al sistema di captazione nel punto incriminato che c'era stato addebitato. In quel documento la società si qualificava unico gestore del sistema sotterraneo di captazione delle risorse idropotabili e pertanto esclusivo soggetto deputato all'onere manutentivo. Quindi dopo questo nostro, diciamo, acceso chiarimento, sostanzialmente ci sono stati sopralloghi tecnici e la settimana scorsa, in data 21, c'è stato un soprallogo tecnico di nuovo con Italfer che ha proposto, a fronte di questa instabilità dei valori di turbidità che non si riusciva, tra virgolette, a calmare, ha proposto la restituzione delle aree del fornice destro e poi a sua volta, insomma, il giorno dopo il commissario straordinario ha convocato per il giorno successivo che è stato mercoledì della settimana scorsa, 23 ottobre, nell'ambito del quale ci è stata riconsegnata il fornice nel quale erano cominciati questi lavori di accantilamenti da parte delle strutture tecniche individuate dal commissario. La società prontamente ha ridato traffico, per cui, diciamo, da quel momento in avanti l'emergenza di gestione del traffico di questi dieci giorni è venuta a cessare. Quindi questo è un po'... Benissimo. Lasciamo subito la parola alla collega Silvestri, prego. Grazie Presidente, ringrazio i nostri ospiti che ci hanno comunque sia fatto un attimo una panoramica della situazione. Io conosco bene perché quella strada la faccio praticamente tutti i giorni per venire a Roma da Teramo, a Roma, quindi conosco bene e so quello che comunque è gestita la situazione attualmente intorno al Gran Sasso. L'unica cosa che io mi domando, nella scorsa legislatura, come lei giustamente ha ribadito, avevamo già affrontato tutta la questione del Gran Sasso perché c'era stata quella chiusura, quella ipotesi di chiusura nel 2017, perché i valori comunque che erano aumentati e quindi quando siete venuti comunque ci avete fatto tutto un escursus di tutto quello che era e anche i lavori che si sarebbero dovuti andare a fare. Quindi la mia domanda principalmente è questa. Allora, attualmente si stava andando a fare, dopo il commissario ne parleremo magari in maniera più specifica, però si stava andando a lavorare sull'impermealizzazione, se non sbaglio, correggetemi se sbaglio, delle gallerie, quindi adesso c'era tutta questa fase di sondaggi che sarebbe durata sui 45 giorni, che però avrebbe portato a una chiusura, nel 2026 si era prospettato, una chiusura delle gallerie e quindi la mia domanda era, adesso bisogna capire un attimo come si andrà a muoversi più avanti, visto comunque sia l'interruzione dei sondaggi che da come ho capito non sono neanche partiti, però quali erano comunque sia i vostri progetti per il 2026? Stata dei Parchi, per questa imminente chiusura, come avreste risolto, come vi sareste posti comunque sia per andare a evitare o a creare un problema per la viabilità? Quali sarebbero state comunque sia le vostre risposte a queste chiusure? Prima di tutto. Seconda cosa, visto che adesso comunque c'è stata questa interruzione, quali sono le prospettive future perché comunque sia, abbiamo questo, c'è questo problema, questi lavori devono essere fatti. Quindi, grazie. Vediamo prima di dare risposte se c'è qualche altra domanda, sia per chi è presente, sia per chi è collegato, altrimenti gli darei subito la parola all'amministratore delegato. Prego. Allora, diciamo non entro nell'aspetto tecnico del progetto dell'ingegner Caputi, se sia di impermeabilizzazione e quant'altro. Quello che comunque è evidente, quello che lei diceva, cioè che ci sono dei lavori che dureranno tanto e che comunque, diciamo, la cui partenza è prevista, diciamo, a partire praticamente dall'anno 2026. Aggiungo rispetto a quello che lei sta dicendo che ci sono anche lavori di altro genere, perché c'è anche, diciamo, l'intervento da fare di potenziamento dell'impianto antincendio, oltre al fatto che la galleria, come sappiamo, giace in un acquifero e quindi, anche da un punto di vista strutturale, oggi fortunatamente la galleria è in ottime condizioni e quindi ci sono pochi interventi da fare, però, insomma, con il passare del tempo il calcio è strutturale. Quindi quello che intendo dire è che ovviamente, diciamo, a bocce ferme non si può che lavorare con un fornice chiuso e con un senso unico alternato. Quindi questo chiaramente per lavori della durata di più di un anno, ovviamente, diciamo, non penso che sia una proposta, diciamo, semplice da accettare per la collettività. È chiaro che per poter non passare attraverso questa forca caudina bisogna immaginare qualche cosa che renda in qualche modo il sistema, la capacità del sistema maggiore. So che al giorno d'oggi, oggi leggevo un articolo nel quale si parlava di potabilizzatori da ambo i lati che quindi in qualche modo andrebbero a migliorare, diciamo, l'efficienza con la quale i gestori idrici possono in qualche modo tener conto di quelle che possono essere situazioni come quelle che si sono verificate in alzamenti della turbidità. Diciamo, quello sicuramente è un elemento che potenzia il sistema e rende in qualche modo il sistema più robusto. Se vogliamo, dal punto di vista della viabilità, se non acquisiamo delle corsie di transito addizionali, il traforo non può che essere gestito con un senso unico alternato. Quando intendo dire corsi di transito addizionali, non so, magari ci fosse una canna in più. Faccio un esempio come quello che sicuramente conoscerete anche per il traforo del Monte Bianco, del quale mi occupavo qualche anno fa. Il traforo del Monte Bianco, in questo momento, quando va a fare degli interventi di manutenzione straordinaria, è costretto a chiudere la circolazione. Perché? Perché manca la seconda canna da lungo tempo richiesta dall'Italia e in qualche modo non condivisa dalla Francia. Quindi lì bisogna andare a potenziare il sistema che permette di passare da una parte all'altra del traforo. Però chiederei magari al dottor Fabri se vuole integrare. Grazie, se posso Presidente. Solo per raggiungere una questione. Emerge anche in questo caso, onorevole, che il dualismo tra un commissario che è chiamato, anzi due commissari, non siamo l'unico caso in Italia, due commissari su un'infrastruttura autostradale, senza né colpa né altro. Comunque abbiamo due commissari che interferiscono ovviamente nelle loro attività, con le attività di normale gestione dell'autostrada. Quindi anche in questa vicenda, come dice il nostro amministratore delegato, non abbiamo fatto il semaforo, perché è quello che ci hanno chiesto di fare. Tutto il resto è stato deciso, sia nella scelta progettuale di intervento e quant'altro, appunto dal commissario. Noi non commentiamo questo, però segnaliamo, mi permetto Presidente, per l'ennesima volta, come ricorderà l'onorevole, abbiamo fatto anche nelle precedenti audizioni, che questo dualismo prima o poi deve essere risolto, perché noi abbiamo una responsabilità pesante che riguarda il tema della sicurezza, innanzitutto, e poi il diritto alla mobilità degli utenti che pagano per appunto poter usufruire di un'infrastruttura funzionante. Un'ultima aggiunta, chiaro che se ci fosse stato un miglior coordinamento, ad esempio con le caratterizzazioni ANAS, sulle vie alternative che c'erano, forse qualche lamentale in meno ci sarebbe stata, ma anche qui c'è un tema di coordinamento rispetto al quale noi siamo coordinati e non coordinatori. Grazie. Ringraziamo i rappresentanti di Strada dei Parchi. Ah no, no, prego, prego. Mi scusi, approfitto. Solo l'ultima domanda velocissima, che mi ero dimenticata. Se comunque, visto, a parte adesso che si è bloccato, però, quando ci saranno questi lavori, anche nei 45 giorni di sondaggio e tutto quanto, se era previsto, magari avevate comunque sia fatto, prospettato un abbassamento dei prezzi per la tratta comunque sia che riguarda la questione, quindi se c'era comunque sia la valutazione per una revisione, un attimo del prezzo dei gaselli, giusto per capire. Grazie. Sotto questo profilo la concessionaria non ha autonomia decisionale, nel senso che deve chiedere l'approvazione al Ministero dell'Infrastruttore. Abbiamo valutato quello che sarebbe stato l'aggravio da un punto di vista economico e quindi, non essendo irrilevante, perché parlavamo di circa 2 milioni e mezzo di euro per quanto riguardava questi 45 giorni, la riflessione che è stata fatta è che nel momento in cui poi si va a lavorare per 400-450 giorni per andare a fare i lavori definitivi, ovviamente l'eventuale contributo da stanziare sarebbe estremamente ingente. Però, come le dicevo, sotto questo profilo noi obbediamo alle indicazioni che in questo senso ci possono pervenire solo dal Ministero dell'Infrastruttore e Trasporti, che è il nostro concedente. Bene, così. Quindi c'è, scusi, forse non ho capito io, c'è stato questo contatto con il Ministero per affrontare questa tematica? Questo non ho capito, mi scusi. Sì, non da parte nostra. Benissimo, ringraziamo i rappresentanti di Strade, Bacchia e S.P.A. per il controbuto dei nostri lavori e dichiariamo conclusa l'audizione informale. S.P.A. per il controbuto dei lavori concernenti del travoro, interventi per la messa in sicurezza del sistema idrico. Ricordo ai nostri ospiti che l'audizione sarà trasmessa sulla web TV della Camera dei Deputati, io vorrei un visione pensore da parte sua. Ringrazio Pierluigi Caputi, commissario straordinario per la sicurezza del sistema idrico del Gran Sasso, per la partecipazione ai nostri lavori. Gli cedo la parola pregando di voler sintetizzare e non dare la lettura al documento che ho smesso in commissione. Dottor Caputi, mi sente? Perché noi vi vediamo benissimo. Però non la sentiamo perché deve aprire il microfono. No, eccolo. Perfetto. Saluto. Buongiorno. Prego, prego. Tenterò di essere succinto anche se però la complessità del problema merita qualche distruzione. Allora, Caputi, mi scusi, l'audio è pessimo. L'audio è pessimo. Non so se è perché è lontano il microfono, perché qualche cosa. Se l'architetto Balducci che vedo lì presente e operativo la supporta, perché so che lo so fare bene. Ma è già supportato. Bene, adesso... Non so, non so, ma Presidente. Perfetto. Adesso la sentiamo benissimo. Prego. Che domale. Dicevo che naturalmente la mia attività è iniziata di dove è finita quella del precedente commissario. In particolare il precedente commissario aveva definito una bozza di PFTE, che sarebbe il progetto, diciamo, preleminare, il progetto per andare a gara. Però questo PFTE era riferito alla normativa dei lavori pubblici previgente, cioè a 50, e invece era subentrato il tempo successivo, il nuovo codice dei contratti, il 36 del 2023. Pertanto era necessario adeguare queste attività. Peraltro questo adeguamento è stato anche suggerito da una serie di perplessità sull'affidamento, diciamo, delle attività del sottoscrittore del precedente PFTE, in quanto per lo stesso non erano stati verificati requisiti soggettivi così come è previsto dalla norma sui lavori pubblici, cioè requisiti sia di, diciamo, di curricula sia di fatturato. E questo, questa incertezza, diciamo, di attribuzione della progettazione poi ha trovato sostanza nel successivo contenzioso che l'introvenzionista ha instaurato con questo commissariato. E allora per questo abbiamo in frazione quindi della necessità di adeguare e di partire con la nuova legge, abbiamo riapriato la procedura con la nuova disposizione del 36. La nuova procedura per l'altro prevede una sequenza di attività, la definizione del quadro esigenziale, che è l'innovazione della norma, cioè la stazione appartante deve definire quali sono gli obiettivi del progetto. Cosa che prima non era prevista. A questo vista il professionista presenta una serie di scenari alternativi e fra questi scenari alternativi il commissario, ovvero la stazione appartante, ne sceglie uno motivandolo naturalmente. Il nuovo quadro esigenziale ridato da questo commissario da me e dalla mia struttura ha due elementi caratteristici. Uno, diciamo, relativo alle opere interne, alle gallerie e uno relativo alle opere esterne. Quest'ultima votazione assume particolari rilevanze perché senza riferire risorse esterne a quelle prodotte all'interno delle gallerie diventa impossibile praticamente fare il lavoro in galleria. Per questo motivo sono stati previsti una serie di potabilizzatori che trovano alimentazione da, diciamo, da fonti alternative. Naturalmente altri principi essenziali sono la tutela dell'arguolo e del funzionamento dei laboratori di fisica nucleare sotto il mio ansasso e la tutela del traffico. Un'altra riflessione è sull'adero che ha previsto pur nel mandato commissariale sul rispetto dell'articolo 94, ovvero delle distanze linee dal potenziale inquinamento delle acque evocabili. Nel senso che abbiamo impostato un ragionamento sulla permanenza di questa caratteristica e sulla sua verifica all'interno delle scenari alternativi perché la regione sta definendo, a seguito della norma, si definiscono la perimetrazione delle aree artistiche e quindi vogliamo che ci sia coincidenza tra le due programmazioni. Ma non si esclude di apparirsi della veroga nel momento in cui arriveremo alla definizione del progetto, dell'idea di progetto che andrà a definizione del progetto. Naturalmente per fare queste attività dopo il definito il quadro esigenziale si è provveduto all'affidamento delle attività progettuali. Si è scelta in tanto tempo in quanto aveva già collaborato con il Presidente Commissario come supporto e si era rifiutata da ogni supporto di soprattutto come progettista e precedente laborato in quanto aveva le competenze necessarie e naturalmente aveva i requisiti soggettivi, ovvero di fatturato e di esperienza professionale in quanto è una delle più grandi società di ingegneria d'Italia, totalmente alla proprietà pubblica e la totale proprietà pubblica era uno dei requisiti per cui consentiva di assidare all'istitamento diretto. Peraltro per questa procedura è stato chiesto conferma all'Avvocatura dello Stato che si è espressa in maniera positiva. Il perché è una realizzazione di potabilizzatori, credo di aver accennato, cioè significa trovare una fonte alternativa perché in prospettiva quando si trovano i lavori in una delle gallerie sarà occupata dai lavori alternativamente, l'una e l'altra saranno occupati dai lavori di messa in sicurezza e quindi quelle risorse che generate da quella, come ogni singola galleria, risorse di idro potabili dovranno trovare una fonte alternativa. Per questo motivo dal lato aquilano si è sostanzialmente ipotizzato la potabilizzazione di un potabilizzatore alimentato dalle acque del lago di Campo Tosto. Il lago di Campo Tosto è il più grande invaso dell'Italia artificiale e ha una capienza assolutamente insensibile ai 300 litri per gli previsti per questo potabilizzatore. Dal lato Teramo, analogamente in un canale di dronda, oggi utilizzato del canale di dronda sempre del lago di Campo Tosto, oggi utilizzato da Enel per una spana, è possibile riferire un'altra risorsa intorno ai 200 litri che quindi potrà essere derivata e messa nel potabilizzatore lato Teramo, quello di Casale e San Nicola e quindi si potrà dare una risposta sostanzialmente alle necessità dei due comprensori. Ricordo che dalle risorse di San Sasso vi vengono essi alimentari circa 500 mila persone dal punto di vista dell'alimentazione di un potabilo. E' previsto anche un terzo potabilizzatore, quello di essere servici, lato Teramo, lato L'Aquila, perché per finalizzare quello di Campo Tosto è necessaria una campagna annuale sulla qualità delle acque nella norma prevista per i potabilizzatori e quindi in relazione a questo è necessario avere un piccolo potabilizzatore che consenta di non portare a sfruttare a questo caso, perché sicuramente c'è di eccessivo le risorse già esistenti, i campi pozzi esistenti sul territorio aquilano perché questi entrerrebbero in crisi per un uso più lungo di uno o tre anni. Almeno tutto ciò ci è stato suggerito dai soggetti incestori perché tutte queste attività sono state concertate e poi suggerite dai soggetti incestori per il sistema idrico, le due società in house, la Sasso Acqua, per il lato aquilano e il lato Teramo. Veniamo al problema delle indagini. Come forse sarà noto il progettista vi ha ritimuto di richiedere al commissario realizzazione di quindici perforazioni su pori soltari all'interno delle gallerie e sei verticali all'esterno. Per arrivare a questa procedura è stata, diciamo, attivata una fase di autorizzazione e concertazione molto lunga. Tiene tutto il parere della vita, cioè della valorazione di incidenza ambientale, cioè il parere positivo del parco del Gran Sasso, poi la concertazione col SIA, cioè il servizio che digene degli alimenti dell'Alsa che autorizza la potabilità delle acque, insieme agli soggetti incestori e il supporto scientifico dell'Università dell'Aquila, del Dipartimento di CEA che è stato convenzionato dal commissario con una consulenza continuativa sulle attività relative alle acque. Poi c'è stato fatto il protocollo d'intesa nell'attuazione del tavolo tecnico, il protocollo d'intesa derivante alla derivata regionale 643 del Regione, proprio in un'azione non precedente caso di contaminazione delle acque. La regionale ha definito un protocollo d'intesa fra tutti gli operatori, cioè i gran sastre, i laboratori, i soggetti gestori e l'autostrada del servizio per definire come si articolano ogni attività sotto le gallerie, come i criteri da rispettare per ogni attività sotto le gallerie. Anche con loro quindi si è trovato, diciamo, si è attivata una concertazione naturalmente presente sempre il SIA che è il soggetto che occupizza sulla potabilità delle acque. Si è dovuto poi procedere al riguamento del piano di sicurezza esterno dell'apparatoria del Gran Sasso, proprio della grande valenza ambientale e culturale e anche scientifica degli esperimenti sul Gran Sasso che hanno l'unico dio di accesso all'interno di una delle gallerie del Gran Sasso. È necessario, come dire, gestire la loro sicurezza attraverso uno specifico piano di sicurezza. Questo è coordinato dal signor Crafetto, allo stesso partecipano a vincere fuoco e con strada e anche con questi è stata trovata una, diciamo, verifica di compatibilità. Dopodiché si è trattato di disciplinare la viabilità. Naturalmente il commissario ha richiesto la concessione delle aree di una delle gallerie in suo favore, quella dove si iniziava a fare i sondaggi. L'altra galleria è rimasta a disponibilità di strada dei parti. Strada dei parti ha quindi la competenza esclusiva della disciplina del traffico. E nonostante, diciamo, siano stati perpetrati da più soggetti come il commissario, diversi tentativi per trovare una soluzione alternativa, il senso di percorrenza alternato con semafori, con gli scambiotti macchine preceduti e seguiti da una navetta, è stato l'unico mezzo che rispondesse ai criteri di sicurezza ai sedi, per quanto affermato la strada dei parti. Naturalmente la strada dei parti ha la competenza esclusiva sulla sicurezza della percorrenza della strada e ci ha evidenziato ogni volta, ogni tentativo di diversa articolazione del traffico, che le ragioni di sicurezza e le responsabilità implicite nel garantire queste dal punto di vista civile e penale obbligavano a questo tipo di scelta. Dopodiché il scelto con strada dei parti e la polizia stranale è anche l'unico periodo dell'anno in cui era possibile effettuare i sondaggi, che si inferisce ai mesi di ottobre e novembre, perché con il ghiaccio diventa assolutamente problematica la disciplina del traffico, diciamo, con problemi di ghiaccio e neve e di pendenze elevate sull'autostrada e quindi fermare i mesi pesanti su pendenze elevate e la ripartenza sul ghiaccio può contrarre dei problemi potenti. Gli altri periodi sono in qualche maniera collegati al turismo, insomma, legato a Pasqua e legato all'estate, quindi non sono utilizzati. Per quanto riguarda, nello specifico, le attività in galleria in realtà che si dovevano avviare il 14 ottobre, sono state in realtà consegnate le arterie, ma in realtà non sono mai iniziate, perché una volta entrati i mezzi gommati di strada dei parti per avviare la prima perforazione che sono stati bloccati perché scoppiarono all'improvviso dal lato terramano un inquinamento di, diciamo, un intorbidamento delle acque che il sistema di allarme è presidurato a determinato l'immediata, diciamo, telefonata da parte dei ruzzoreti ai traffetti a bloccati i propri mezzi che stavano addirittura solo all'ingresso dell'Aquila delle gallerie. quindi i mezzi gommati naturalmente in volontà, diciamo, con sopra questo livello è stato fermato dal lato l'Aquila. Naturalmente questo ingresso in galleria non ha voluto determinare nessun effetto perché naturalmente la perforazione non è stata avviata, è sempre il mezzo ancora sul camion, il lato l'Aquila. La configurazione dell'autostrada non è fatta in maniera lineare ma è fatta con un artice. Dottor Caputti, siamo a 13 minuti di audizione e dobbiamo anche fare una domanda. Io ho finito comunque. Questa è la parte più interessante. Lei provi a concentrare questa parte che ci interessa molto e poi le facciamo una domanda. Sì, per la configurazione tecnica delle autostrade quindi è possibile che acque destinate al lato l'Aquila vagano a miscelarsi con quelle del lato Teramo e quindi è impossibile che l'ingresso di un mezzo gommato nell'autostrada del lato l'Aquila abbia potuto determinare effetti. D'altronde gli effetti perturbazioni sono curati anche nei giorni successivi a quanti lavori erano sospesi e sotto le gallerie non transitava nessuno. E quanto riguarda le attività, naturalmente partì una segnalazione anche da parte nostra ma da parte anche della Ruzzo alle autorità giudiziarie a fine che sequestrassero diciamo le telecamere, i siti sia all'interno delle gallerie sia all'ingresso della galleria dove c'è l'opera di presa della Ruzzo Retti della Propera. E direi che su questo aspetto diciamo non ho altro da dire se non che si proseguirà quindi col DOCFA e quindi con la proposizione a parte del soggetto progettista di soluzione alternativa all'interno di questo non potrà mancare come riprende la legge l'opzione tiene la proposta avanzata dal precedente commissario più ogni altra attività diciamo il progettista potrà richiedere. Sarà anche la consultazione su queste soluzioni alternative aperta ogni ipotesi diciamo di ulteriore integrazione di ipotesi se ce ne verranno e dopo di che si sarà l'attuale, si ipotizza che dopo una consultazione alta e scientifica la valutazione potrà essere rimessa in più alti mille di tecnici. Se vuole faccio le indicazioni delle risorse se abbiamo tento se no mi fermerei lì. Allora no commissario se c'ha dei documenti da poterci consegnare molto molto volentieri così li distribuiamo anche ai componenti della commissione però lascerei la parola alla collega Silvestre perché le vuole fare una domanda. Prego onorevole. Grazie presidente, buongiorno commissario, grazie per la disponibilità. Allora c'è qualche difficoltà di comprensione perché con l'audio non è buonissimo, sono sincera, quindi le chiederei per favore se mi potrebbe un attimo rispiegare la questione dell'innalzamento dei valori. C'è proprio l'ultima parte perché io non ho capito la questione alla fine lei ha parlato del acquisire le telecamere perché è questo il pezzo che mi sono persa, un attimo per capire il tutto, il pezzo centrale sono sincera, me lo sono perso perché c'è stato un problema di audio e non l'ho capito, quindi se per favore me lo potrebbero rispiegare. Ma poi le volevo chiedere quando ci saranno di nuovo, comunque sia quanto si prospetterà l'inizio di questi sondaggi, se questi sondaggi comunque quando inizieranno questi lavori, se c'è attualmente una visione, una progettualità, oppure se bisogna aspettare comunque sia di capire, perché non avendo capito il problema sono sincera quindi non so neanche come chiedergli bene la domanda, però siccome questi lavori sono obbligatori, sono importanti da fare, adesso si sono bloccati, quando è la possibilità di ripartire e quindi ricominciare con i sondaggi? Mi scusi però ripeto, l'audio non era dei migliori quindi non ho ben capito. Commissario ce la fai in 4-5 minuti al massimo? Sì, sì ce la fai. Prego. Eh, ripeto, noi abbiamo, c'è la Luzzo ci ha fornito documentazioni di dove si sono forniti mezzi attraverso date e fotografie, però siccome i mezzi non possono essere stati a indurre una qualsiasi perturbazione, allora coscientemente abbiamo chiesto che vengano osservate per quel giorno le gallerie autostradali e la fonte di alimentazione dell'acquedotto e immediatamente fuori delle gallerie dal lato teramo per capire se ci sono stati casuali pensamenti da parte di qualsiasi uno. E perciò le prove, diciamo, delle telecamere sono importanti da questo punto di vista. Le abbiamo richieste naturalmente noi ma soprattutto abbiamo segnalato alle autorità giudiziarie di acquisirle per previsionarle. Questo è l'aspetto. che quando riguarda invece i tempi, naturalmente in una situazione di perturbazione non sono possibili fare attività. Questo non significa che si fermano le attività progettuali che continuano nella predisposizione del DOCFAP, che sarebbe le alternative progettuali da portare poi a definizione a una sola. Cioè ci saranno le posizioni alternative diverse da portare a definizione una sola. si dovrà scegliere tra queste una. Però in realtà, in contemporanea, abbiamo chiesto immediatamente, in una riunione due giorni dopo dell'indormitamento, con la LUNZ e Polizia, c'è con l'organismo del desalz preposto alla potabilità delle acque, di istituire una commissione di indagine per capire che cosa era successo. La prima riunione ci sarà domani e preseduta naturalmente dall'organismo terzo, cioè il SIA, che è quello che autorizza la potabilità dell'acqua, e domani si cominciano a analizzare le modalità per andare a accertare ciò che è successo. perché è condizione ormai diffusa, che è successo al di fuori delle gallerie. Quindi, o è successo, la torbidità si origina in generale quel tipo di torbidità perché c'è un deposito di materiale sottile nella canale che sta sotto le gallerie che raccoglie le acque che derivano dai bordi della galleria. Vengono raccolte dai bordi della galleria e trascinati trasmessi in questo canale sotto. Naturalmente le acque sorgive hanno dei depositi limosi, quindi i depositi limosi, se si vengono agitati, danno origine a torbidità. Tra l'altro, questa attività era già successa nell'azione del precedente commissario quando in questi canali erano stati immessi dei robotini per capirne lo stato non utente. Quindi, la situazione è del tutto analoga e bisogna capire appunto qual è stato l'elemento perturbativo che ha determinato l'agitazione di questo sedime di fondo. La commissione, ci stiamo lavorando, diciamo, la commissione si giudisce proprio per valutare questa cosa. Naturalmente le attività stanno, diciamo, stiamo proseguendo, i pentagini verticali al di fuori delle gallerie e con le attività di approfondimento dell'opera. Voglio chiarire, perché su questo c'è stato qualche tramore di stampa, che si ritiene che io come commissario abbia un disegno, diciamo, di un progetto futuro. Mi pareva che apparisse, trasparisse pure dal suo ragionamento, ma non è così. Perché la legge dice che dobbiamo trattare analisi alternative e preventive in base a un'analisi, in base agli problemi ambientali, costi e benefici, si determina tra queste ipotesi progettuali alternative quella da poi definire con un progetto di fattibilità reale che corrisponde al vecchio definitivo, che è un progetto di lato sostanziale. Commissario, penso che sia più che sufficiente la spiegazione che ha dato la collega da Silvestri. Esatto, collega? Sì, sì, assolutamente. Adesso ho capito perfettamente e non mi riferivo assolutamente a niente perché non era mia intenzione, se magari è apparso che il mio intervento potesse essere quasi accusatorio. Assolutamente no, è che veramente non avevo capito quali erano le basi, non avevo capito che voi stavate cercando il motivo di questo problema. Mi mancava proprio quel pezzo. La ringrazio, adesso ho avuto tutte le risposte. Grazie per tutto. Grazie a lei, collega Silvestri. Io, se non ci sono altre domande, sia di chi è collegato che di chi è presente, ringrazierei il Commissario Stradinario per la sicurezza del sistema etico del Gran Sasso, per Luigi Caputti, per il contributore sui nostri lavori. Dicherei conclusa l'edizione formale e ne approfitterei per salutare anche l'architetto Balducci. Grazie, grazie e buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro. Grazie per il supporto tecnico e l'audio, altrimenti non sarebbe stato comprensibile. Grazie. 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 Grazie.